La pandemia Covid-19 non molla la presa, ma in casa CSK Birogno non manca la voglia di confrontarsi e tornare a combattere. La società bergamasca dedita la kickboxing, nonostante al momento non abbia a disposizione un luogo dove potersi allenare, questo fine settimana ha preso parte al campionato regionale Juniores, svolto sia a Cremona. Ben 180 gli atleti iscritti, una trentina le società partecipanti, nonostante le restrizioni in corso. I ragazzi guidati da Khalid Tuissi sono riusciti a mettersi in mostra conquistando dei buoni risultati. Nella categoria cadetti 13-15, light contact, citure alte, ad aggiudicarsi il primo posto è stato Karim Tuissi, mentre nella light contact, citure basse al femminile nella categoria a meno 55 kg, il successo è andato a Giulia Zigliani. Nella classe maschile senior, meno 70 kg, Gabriele Gonella viene sconfitto in finale ed è costretto ad accontentarsi del secondo posto. Infine nella categoria a meno 75 kg, terza piazza per Bolanchendu, mentre si aggiudica la finale Alessandro Valenghi. Una serie di risultati davvero niente male.